Babbo Natale! Babbo Natale! Chiamatemi Babbo Natale! Claudia! Claudia che c... Claudia ma... Claudia, sei pronta a vedere il vero Babbo Natale? Yes! Sì! Are you ready? Come si dice? Sei pronto? Are you ready? Yes! Ok! Voglio vedere Babbo Natale! Voglio vedere Babbo Natale! Voglio vedere Babbo Natale! Oh! Abbiamo capito! Abbiamo capito vera che vuoi vedere Babbo Natale! Oddio! Quanti bambini che ci sono! Guarda lì quanti bambini che ci sono Claudia! Ho visto un elfo! Ci sta anche un elfo! Due elfi! Guarda Claudia! Ci sta il treno dei Topi! È piccolino! I Topi guidano quel treno! Schifo! Che cosa hai detto? Che schifo! Ma stai parlando in corsivo? Sì! È ovvio! Stai parlando in corsivo! Qualcosa mi dice Claudia che il villaggio di Babbo Natale è molto molto vicino! Claudia! Allora li hai trovati i mercatini di Natale? No! No? E cosa me ne faccio di un cespuglio? Voglio i mercatini di Natale! Voglio mangiare! Anche io vorrei mangiare! Molto fango! Però... Guarda ci sta un Babbo Natale laggiù! Claudia dove corri? Dove vai? Come mercati? Il villaggio di Babbo Natale! Non ci posso credere! Riusciti a trovare il villaggio di Babbo Natale! Bello! Guarda! Guarda quante belle cose! Cosa ci sta Claudia? Che fosse! Wow! Cos'è che ti piace qua in mezzo? Ti piace qualcosa? No! No! Claudia cosa stai guardando? Cosa stai guardando? I dolci? I dolci stai guardando? Vuoi mangiare i dolci? Li mangiamo dopo! No! Ok! Oh mammina! Claudia guarda quanta cioccolata che c'è qui! Andiamo! Guarda! C'è anche il caffè fatto di cioccolata! La macchina del caffè! C'è il ferro da stiro di cioccolata! C'è la scarpa di cioccolata! I unicorni! C'è Peppa Pig! Guarda! C'è Olaf! C'è Peppa Pig! C'è Olaf! Tutto così cioccolatoso! C'è Peppa Pig! Babbo Natale! Babbo Natale! Babbo Natale! Ciao! Chiamatevi Babbo Natale! Ma tu sei Federico! Federico? Chi è Federico? Allora la prima cosa che dobbiamo fare adesso è trovare Babbo Natale! Ok? Dobbiamo capire! Secondo te dove sta Babbo Natale? Alla casa di Babbo Natale! È vero! E dov'è la casa di Babbo Natale? Come fai a saperlo? Beh, ho visto dei bambini che ci andavano! Hai visto dei bambini che andavano da Babbo Natale? Guarda Claudia! Guarda! Ci sta lo mino di pan di zenzero! Guarda com'è bellino! A me mi sta venendo fame! Posso mangiarlo? Beh, allora andiamo lì! Vorrei mangiare questo mino però non è commestibile! Non posso mangiarlo! Però è troppo buono! Troppo, troppo buona! Questa qua è una caramella gigante! Non è una caramella gigante! Sì, vedi? È una caramella gigante! Qua si apre! Guarda quanto è grande! A te che ti piace! Ah, e se volete invitarmi a casa vostra chiamate questo numero e risponderò io con il mio cellulare! Coraggio! Provate a chiamare questo numero qui! Risponderà Vittorio! Vuoi il cupcake? Uh-huh! Questo pure si mangia! Ma anche questo qua si mangia! Ma anche questo qui si mangia! Ma anche questo e anche questo e anche tutto! Ok Claudia mi sta venendo veramente, veramente molta, molta fame! Ancora dobbiamo arrivare a Natale! Pensi già alla bevana! Ui-ui-ui! Questo che c'è un pinguino sopra! È ben carino! Uh! Guarda quanti altri bambini che ci sono! Claudia! Sono sommersi! Guarda ho trovato Babbo Natale! E Claudio è lui! Ma non era rosso Babbo Natale? Lui è il fratello bianco! Guarda! Guarda Claudia! Guarda quanto... Quanta roba da mangiare c'è! È lunghissimo! Posso rubare un panino! Questo tacchino! È enorme! No! Non lo mangiare! Non lo mangiare! È finto questo tacchino! È vero! Guarda! Aspetta ma questi cioccolatini qui sopra sono veri! Non sono finti! Eh! No! Questi... Ciao! 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 Claudio ma questi qua sono veri questi qua sopra! E me ne prendo uno! Guarda sono veri! No! Guarda prendo questo! Oh no! Ce l'ho trovati! Claudio ce l'ho trovati! Non ci ha visto! Non ci ha visto! Quello è l'elfo di Babbo Natale matto! Cappellaio matto! E se rubiamo qualcosa dopo viene qua e ci sgrida! Quindi non dobbiamo prendere nulla! Claudio! Non si può toccare qui! No! Claudio cosa hai fatto? Cos'hai fatto? Mi hai fatto cadere! Claudio hai trovato la casa di Babbo Natale? Sì! Dov'è? È qua dentro? È vero! C'è anche l'elfo! Oh non cadere! Vera non fa rinciampare Claudio! Capito? Ciao! 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 Ok dobbiamo soltanto aspettare adesso che passa tutta quanta la fila per poi vedere Babbo Natale! Perché io la fila non la voglio fare! Ah guarda Claudio qua lì sono tutte quelle delle letterine di Babbo Natale! Qui! Ciao Pasquale! Ciao Pasquale! Salute a Pasquale! Ciao Pasquale! Ciao Pasquale! Guarda Vittorio ci sono le letterine possiamo dare una sbirciatina veloce? Allora no Claudio le letterine sono molto personali non possiamo leggere le cose che dicono gli amici! Vediamole! Caro Babbo Natale visto che quest'anno mi sono comportata molto molto bene a scuola e non ho fatto arrabbiare mamma e papà per questo Natale desidererei tanto avere la Nintendo Switch e vorrei anche il giochino di Animal Crossing! Oh vuole Animal Crossing vita! Anche io voglio giocare con la Nintendo Switch! Me la regali Claudio? Io ce l'ho solo che non te la regali! E io non ti faccio il regalo di Natale! Ok! Ciao! Ciao, 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 oh, 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 oh scappa claudia claudia scappa 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 claudia siamo insemini dei fan oddio li abbiamo seminati li abbiamo seminati ciao ciao aiuto come ti chiami ciao claudia eccola qua questa è la casa di babbo natale guarda eccolo c'è il vero babbo natale lì guarda è lui mi raccomando claudia se carica se carica questa è la tua occasione gli puoi chiedere tutto quello che vuoi tutto 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 quanto mi raccomando chiedigli chiedigli un biscotto gigante guarda guarda quanto è bella questa casa guarda quante cose che ci furono guarda quanti schiaccianuci claus come claudia oggi è santa nicole devi farci augure e farci augure per te la dentro ci sono i regali mi sento un po' male come ti senti male claudia forse ti stai emozionando per babbo natale andiamo vieni 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 claudia vieni ciao babbo natale io ti penso che gli faccio una favore ok sei pronta sorridete brava brava si perfetto grazie babbo natale ma che succede vittoria mi sento un po' male come ti senti male che cosa dite ti gira la testa si forse perché ti sei emozionata vedendo babbo natale per questo stai così che ne sai e perché lo so ti stavi emozionando ti ho vista sicuro si sicuro sicuro si adesso starei bene tranquilla devi soltanto un pochettino camminare e ti sentirai molto molto meglio adesso claudia tranquilla claudia 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 sveglia claudia claudia svegliati svegliati brava claudia non ti senti divisa aspetta prova a fare una puzzetta in faccia no vera quale puzzetta speriamo no mamma è svenuta sul serio claudia svegliati vera vera leccale in faccia leccale in faccia vediamo cosa succede vai vai leccale in faccia vera lecca ma sei sveglia stai ridendo scherzetto facciamo un attimo la miniatura ah e se volete invitarmi a casa vostra chiamate questo numero e risponderò io con il mio cellulare coraggio provate a chiamare questo numero qui risponderà vittorio risponderò io con l'amore il mio cellulare non mi piace